Statale 337 chiusa a Ribellasca per una decina di giorni e la prima stima dei tempi per la messa in sicurezza. A Villa Dossola tre importanti progetti con il CIS, recupero di edifici dismessi e nuovi mini appartamenti per le persone fragili. Innovazione tecnologica delle nostre imprese, Roadshow al Via dal Tecnoparco, resta il problema della connettività. Sanità Piemonte nasce un gruppo di lavoro sul futuro delle residenze sanitarie per anziani, l'annuncio del governo regionale. Progetto articolo più uno per avvicinare i giovani disoccupati al lavoro, già una cinquantina le persone coinvolte con tirocini a corsi. Oggi aver bagna la Torch Run per annunciare l'arrivo dei giochi nazionali estivi Special Olympics a Torino. Una buona serata dalla redazione di VCO Notizia. In apertura di giornale ancora la viabilità in Valle Vigezzo con la statale che resterà chiusa a Ribellasca per una decina di giorni. Il tempo necessario alla messa in sicurezza secondo le prime stime. Resta interrotta anche la linea internazionale della ferrovia Vigezzina Centovalli con bus sostitutivi via Lago per chi da domodosso la deve raggiungere Locarno. Una decina di giorni di lavoro, anzi di giorni e di notti. E questo è il tempo previsto secondo le prime stime per concludere gli interventi di messa in sicurezza del versante franato ieri mattina in Valle Vigezzo, al chilometro 28 tra Re e i confine italo-svizzero di Ribellasca. Si tratta però di una stima di massima. Fare ipotesi in questi casi non è mai facile, spiega il sindaco di Re e vicepresidente dell'Unione Montana Valle Vigezzo, Massimo Patritti. Si parla appunto di 8-9 giorni. La ditta lavora H24 grazie all'impiego di una torre faro di illuminazione che gli è stata fornita direttamente dall'Unione Montana e che avevamo acquistato tempo fa per la protezione civile. Speriamo che i tempi vengano davvero rispettati, dice ancora Patritti. Ed è quel che sperano anche i circa 1.500 frontalieri solani, obbligati da ieri a transitare lungo la Cannobina per recarsi al lavoro oltre confine. Il che, tradotto in disagi, significa un allungamento di una ventina di chilometri di tragitto e quasi il raddoppio del tempo occorrente per andare al lavoro e poi ovviamente anche per fare il ritorno a casa alla sera. Ma non è tutto, a preoccupare sono anche alcuni cantieri aperti sulla strada Brissago. Dal cantone hanno però assicurato l'impiego di movieri nelle ore di punta. E preoccupa anche l'aumento del traffico lungo la statale 34 del Lago Maggiore, già percorsa dai frontalieri del Verbano e del Cusio. Ma c'è dell'altro, come evidenzia dal coordinamento provinciale dei frontalieri Antonio Locatelli. Stiamo entrando nella stagione turistica e già si vedono in giro in Cannobina i primi camper, quindi aumentano i rallentamenti lungo questa strada già di per sé molto tortuosa. L'auspicio, va avanti i Locatelli, è che i lavori proseguono accedermente e che venga riaperta più presto la statale 337. La polizia di frontiera di Domodossola, nel corso di uno dei normali controlli a bordo dei treni, ha arrestato un 38enne albanese. Su di lui infatti pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP di Foggia per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e per sfruttamento della prostituzione. Ai danni dell'ex moglie, l'uomo avrebbe più volte messo in atto comportamenti violenti nei confronti della donna, costringendola a prostituirsi con diversi uomini e facendosi poi consegnare parte del ricavato. Ora si trova in carcere a Verbagna. A Villa Dossola presentati i progetti che saranno avviati grazie a una sinergia tra Cisossola e Amministrazione Toscani. Cambio di sede per il Consorzio Solano, importanti investimenti in due edifici da recuperare. Presenti in paese verranno creati mini appartamenti per le persone fragili. Abbiamo presentato i tre progetti in collaborazione con il Cisossola. Siamo veramente soddisfatti perché sono frutto di una collaborazione di diverso tempo. Il primo progetto è quello dello spostamento della loro sede che andrà in via Fabri. È un progetto da 150.000 euro che porterà il Cis verso la fine dell'anno a spostarsi. Gli altri due invece sono le cose più importanti perché siamo riusciti ad ottenere con il PNRR due finanziamenti di circa 1.230.000 euro per la sistemazione del vecchio asilo per 700.000 euro e invece altri 500.000 euro per l'ex convito. Sono tutti progetti dove verranno fatti dei piccoli appartamenti a disposizione delle persone fragili. Una sinergia tra il Comune di Villa D'Ossola e il Cis ha portato al primo step di realizzazione per ottenere dei finanziamenti di progetti importanti. Quali sono? Dunque, ha fatto bene a parlare di primo step perché adesso c'è tutto da costruire. Da costruire un modello organizzativo che possa poi far sì che vengano dati dei servizi che sono ritenuti utili per la popolazione in difficoltà. Allora, intanto un intervento sugli anziani non autosufficienti a bassa soglia con la realizzazione di alcune unità abitative ad alta domotica quindi tecnologicamente importanti, avanzate, eccetera per migliorare l'autonomia di queste persone. Nello stesso tempo anche altri interventi che riguardano servizi per persone non necessariamente anziane ma che hanno delle difficoltà difficoltà di tipo economico, difficoltà di tipo sociale e fra questi quel discorso che riguarda l'invenduto a buon fine dovrebbe diventare qualcosa di più, un po' come l'esperienza dell'emporio solidale di altre realtà come quella di Verbagna. Innovazione tecnologica, digitalizzazione, transizione ecologica per le nostre imprese. Questi temi al centro dell'evento che si è tenuto oggi al Tecnoparco è stata l'occasione anche per fare il punto sullo stato di salute tecnologica delle nostre aziende. Faticano in particolare a tenere il passo le piccole realtà e resta il problema in molte aree di una adeguata connettività. Questa mattina al Via da Verbagna è il roadshow organizzato da Digital Innovation Hub, Competence Center, CIM 4.0 e Fondazione Torino Wireless con Unione Industriale e VCO. Innovazione, digitalizzazione e transizione ecologica hanno guidato il dibattito al Tecnoparco. In conclusione visita al Tecnolab del Lago Maggiore, azienda che rappresenta un'eccellenza locale per il suo slancio innovativo, un laboratorio di prove, misure e ricerche in diversi settori. Dal VCO è partito l'evento che attraverserà il Piemonte per parlare del futuro delle aziende italiane. L'iniziativa è doverosa perché stiamo vivendo un momento epocale da un punto di vista tecnologico. Siamo nel pieno della quattra rivoluzione industriale, quindi collegamenti tra sistemi in internet, cloud, eccetera. E quindi questo è un momento tecnologicamente importante. Tenete conto che il PIL mondiale della tecnologia negli ultimi 200 anni ha avuto una crescita esponenziale. Quindi guardare la tecnologia in questo momento è fortemente significativo. Ma se noi a questo aggiungiamo anche che con gli aumenti che stiamo avendo e con le problematiche che stiamo avendo, gas, elettricità a noi tutte note, noi non possiamo prescindere da un salto tecnologico delle aziende. Ma qual è lo stato di salute tecnologico delle aziende regionali e locali? Realizzata una ricerca ad hoc su una scala da 1 a 5, il Piemonte si posiziona abbastanza bene tra il 2,5 e il 3, Però i grandi salti di competitività si fanno utilizzando gli strumenti più avanzati come l'intelligenza artificiale. Le PMI al momento risultano un po' indietro rispetto a quello che è possibile fare. Nelle realtà periferiche come il VCO resta il nodo della connettività a banda ultralarga e copertura cellulare. Le aziende, per esempio, spesso il primo ostacolo che dobbiamo risolvere è capire se hanno una sufficiente connettività per fare i progetti che gli proponiamo. Questo è un esempio. Poi c'è l'esempio, poi c'è il caso del capitale umano. Spesso l'azienda è in grado di intuire la potenzialità di un progetto, capire anche la competitività che ne ottiene, ma al di là delle tecnologie che può acquisire deve far crescere il capitale umano interno. Ed ora la viabilità verbanese. Torniamo ad occuparci del cantiere aperto tra la Beata Giovannina e i tre ponti con la presa di posizione della minoranza cittadina. Asfaltatura alla Beata Giovannina. Il cantiere è troppo impattante. Lo scrivono in una nota i capigruppo di Forza Italia, Mirella Cristina, della Lega Michael Immoviglie e di Fratelli d'Italia, Damiano Colombo. Era fine di aprile quando il sindaco di Verbagna Silvia Marchionini annunciava il termine dei principali interventi sulla pista ciclopedonale tra Fondotocce e Suna. A suo dire mancavano piccoli lavori stradali che sarebbero stati conclusi nelle successive settimane. Peccato che dalla giornata di mercoledì questi piccoli lavori stradali si siano tradotti in un nuovo senso unico alternato in zona Beata Giovannina per l'asfaltatura del tratto finale dai tre ponti. Peccato che non manchi neppure la chiusura totale serale, scrivono e proseguono. Peccato che l'assessore Nicolò Scalfi in un'edì abbia dichiarato mancano le operazioni più impattanti. I capigruppo sottolineano come sia iniziata anche la stagione turistica estiva e siano aumentati i disagi. Pensavamo che fosse finita, invece non è così e aggiungono la situazione non è davvero più sostenibile, i cittadini sono esasperati e questi importanti disagi al traffico non sono certo un bel biglietto da visita per chi viene in vacanza nei nostri territori. Siamo alla vigilia dell'estate e lavori così impattanti se devono essere eseguiti non possono essere certamente fatti di giorno. La cantierizzazione in tutta Europa, nelle città e nelle vie nevralgiche della circolazione si fa di notte e si sgombera durante il giorno. Questo ci aspettiamo in una città che vuole garantire qualità di vita ai cittadini e la migliore accoglienza ai turisti. A causa di un guasto alla rete idrica, tutto il paese di Varallo Pombia è senza acqua. L'inconveniente si è verificato in via Martiri della Libertà alle 18 dopo un sopralluogo. Il sindaco Joshua Carlo Magno ha comunicato che secondo i tecnici di Acquano Vara VCO l'emergenza continuerà anche in serata. I primi disagi si sono registrati attorno alle 12.30 e a poco a poco col passare del tempo si sono estesi a tutto il territorio. Il blocco, fanno sapere dal Comune, è stato dovuto al cedimento improvviso e non preventivabile avvenuto durante l'effettuazione di alcuni lavori, in parte di adeguamento della rete idrica, in parte connessi a un nuovo allacciamento. Parliamo di sanità. In Piemonte nasce un gruppo di lavoro sul futuro dell'RSA. L'annuncio è stato fatto in Regione, in Commissione Sanità. A breve verrà istituito un gruppo di lavoro sulla gestione post-emergenza dell'RSA, del tutto aperto al confronto anche a chi non ha ancora sottoscritto il protocollo d'intesa sul tema, cioè agli assessori alla sanità e alle politiche sociali. L'annuncio è stato fatto dall'assessore alle politiche sociali, Maurizio Marrone, oggi in Commissione Sanità. Il documento, ha ricordato Marrone, prevede l'adeguamento delle tariffe all'indice di inflazione, la semplificazione e la maggiore appropriatezza delle procedure di accesso dopo la valutazione geriatrica, la revisione delle modalità di riapertura dei presidi e la ricollocazione presso la rete dei presidi sociosanitari accreditati dal personale sanitario, assunto a tempo determinato per la pandemia, che non può essere stabilizzato dal servizio sanitario pubblico. Le associazioni di categoria e rappresentanti dei gestori si sono invece impegnati a farsi parte attiva per procedere all'assunzione del personale sociosanitario impiegato dalle ASL a tempo determinato durante la pandemia. Non fa invece parte del protocollo il bonus energetico di 2,7 milioni di euro, pensato per aiutare la RSA ad affrontare l'aumento delle bollette e il bando di domanda sarà quotato per posti letto, mentre un uso innovativo del Fondo Sociale Europeo, che metterà a disposizione circa 20 milioni l'anno, aiuterà chi non è convenzionato con l'ASL. I nuovi casi di Covid riportati oggi nell'aggiornamento della Regione Piemonte sono 1.820. con 17.122 tamponi diagnostici processati e un tasso di positività al 10,6%, un ricoverato in più in terapia intensiva dove il totale ora di 20, negli altri reparti meno 26, dato complessivo a 515, 7 i decessi. Donare per crescere, siamo all'appuntamento settimanale con Fondazione Comunitaria VCO, torniamo ad occuparci del progetto articolo più uno, rivolto in particolare ai giovani NIT, quelli che non studiano e non lavorano. È partito da qualche mese e vediamo allora come sta andando. Presentato a ottobre scorso in prefettura il progetto articolo più uno, sostenuto da Compagnia di San Paolo, Fondazione Comunitaria VCO e Fondazione Buon Lavoro. Ricordiamo brevemente quali sono i suoi obiettivi. L'obiettivo del progetto è quello dell'inserimento al lavoro dei giovani residenti sul territorio del Verbano Cusiossola con età compresa tra i 15 e i 34 anni che o abbiano unise sotto i 25.000 euro o comunque abbiano avuto le problematiche della ricerca del lavoro anche a causa della pandemia. In particolare ci rivolgiamo a tutti i disoccupati ma in particolare alle fasce un po' più in difficoltà. A che punto è il progetto visto che ormai è stato avviato da qualche mese? Sì, allora abbiamo preso in carico già, quindi abbiamo inserito nel progetto una cinquantina di giovani di questi ovviamente tutti i residenti nel Verbano Cusiossola abbiamo attivato già una quindicina di tirocini di cui ovviamente dobbiamo ancora vedere l'esito abbiamo tre contratti di assunzione diretta, abbiamo anche attivato due corsi di formazione breve e uno è in attivazione. Voi vi siete occupati del corso nel settore edile, come è andata e quanti ragazzi avete coinvolto? Sono dieci ragazzi che arrivano dai centri d'accoglienza di Verbagna, sono di etnie diverse abbiamo prima di tutto fatto loro un'introduzione alla sicurezza sul cantiere per poi sviluppare qualche parte di lavorazione più immediata e più interessante. Il corso si è articolato su 96 ore e tutti e dieci ragazzi sono poi stati inseriti in tirocino in aziende del territorio che in questo momento hanno molto necessità di mano d'opera per cui ci auguriamo che tutti possano poi trovare un lavoro definitivo in queste aziende. Giovedì 16 giugno al Teatro Maggiore di Verbagna torna all'appuntamento con gli scrittori finalisti del più importante premio letterario italiano dopo il successo dell'iniziativa ha già incontrato a partire dal 2018. La città di Verbagna infatti ha ospitato ogni anno salvo che nel 2020 la cinquina degli scrittori finalisti del premio strega. Al momento sono stati individuati i 12 finalisti, i libri candidati saranno letti e votati in queste settimane da una giuria composta da 660 persone. Siamo soddisfatti e orgogliosi di poter accogliere nuovamente il premio strega a Verbagna dichiara l'assessore alla cultura Riccardo Brezza. Quest'anno la presentazione della cinquina avrà alcuni elementi di novità con l'intento di allargare e accrescere il pubblico coinvolto negli scorsi anni. La partecipazione all'appuntamento con la cinquina è gratuita ma è necessario avere il voucher che è in distribuzione alla biglietteria del teatro, in biblioteca, alla libreria Spalavera e alla sede comunale di Pallanza. A seguire una novità prevista dal programma 2022, negli spazi esterni del teatro ci sarà lo strega party con il DJ set di Andrea Serra, un'occasione in più per conoscere da vicino gli autori ospiti e i libri finalisti. E oggi sempre a Verbagna con partenza davanti a Palazzo di Città, Pallanza, la Torch Run che come da protocollo olimpico percorrerà tutta Italia per annunciare l'arrivo dei giochi nazionali estivi Special Olympics in programma a Torino dal 4 al 9 giugno, accensione del bracere nella splendida cornice di Villa Giulia. La torcia degli Special Olympics Game a Verbagna, di che cosa si tratta? Si tratta di una manifestazione molto importante a livello nazionale, 44 comuni che verranno toccati da questa torcia che prelude agli Special Olympics nazionali, ai giochi nazionali che si terranno il 4, 5 e 6 di giugno a Torino. Siamo protagonisti anche noi con la città di Verbania e col territorio del Verbano, del nostro consorzio dei servizi sociali del Verbano perché la nostra squadra di bocce è campione italiana e quindi in qualche modo omaggiano anche Verbania i giochi quest'anno. Ecco, come si svolge questa giornata? Saranno gli atleti a portare la fiaccola? Esatto, i nostri campioni sono quelli che accompagneranno la fiaccola in un percorso che parte qui dal lungolago di Pallanza davanti al comune e che vede poi uno scambio della torcia della fiaccola durante il percorso con l'arrivo e l'accensione del Bracere in Villa Giulia dove in questo splendido scorcio ci sarà poi il giuramento degli atleti e un rito preciso proprio di accensione. Lo sport è bello perché è di tutti. Esatto, esatto. Questa è un'intuizione davvero molto importante di una delle donne della famiglia Kennedy ormai 60 anni fa, 6 milioni di atleti in tutto il mondo, 200 paesi, l'Italia è grande protagonista con molti atleti e siamo davvero molto contenti perché Special Olympics è un messaggio molto profondo, molto intenso di cultura della disabilità, lo spazio per la disabilità cognitiva che spesso appunto nelle Paralimpiadi non c'è per ovvie ragioni e che invece qui trova davvero grande rilevanza, grande importanza e porta un messaggio che siamo tutti capaci, siamo tutti abili, abbiamo tutti delle capacità, delle abilità, dobbiamo solo essere bravi a farle venire fuori. Ed ora le immagini dell'esercitazione dei vigili del fuoco in Valle Antrona al lago di Campliccioli. Alle manovre hanno assistito anche alcuni escursionisti. Due giornate di esercitazione per i vigili del fuoco del comando di Verbagna in collaborazione con Enel Spa, l'addestramento ha avuto come scenario il lago di Campliccioli in Alta Valle Antrona. I soccorritori hanno simulato il recupero di un lavoratore che si è infortunato all'interno del cunicolo di accesso al muro di coronamento del bacino artificiale che si sviluppa in maniera verticale per un'altezza di circa 60 metri. Al termine della manovra si è potuta testare l'attrezzatura a disposizione a bordo di uno degli ultimi automezzi assegnati al comando di Verbagna, specifico per l'impiego in ambiente montano e impervio, che ha permesso di effettuare delle calate sulla verticale del muro di sbarramento, così come previsto dal programma di mantenimento per il personale appartenente al nucleo SAF, speleo alpino fluviale del comando. Le condizioni meteofavorevoli all'approssimarsi della stagione estiva hanno fatto sì che alla manovra effettuata dall'esterno potessero assistere alcuni escursionisti già presenti sui percorsi che la valle offre. Il comitato Ossola World Sky Running Champs e la decima delegazione Valdossola del soccorso alpino organizzano per venerdì 20 maggio a Domodossola in piazza Rovereto l'evento Uomini e mezzi del soccorso alpino, tecniche di intervento e materiali. L'evento avrà inizio alle 18.30 e vuole essere un'occasione per valorizzare e far conoscere l'attività del soccorso alpino, perno fondamentale per quanto riguarda la sicurezza degli atleti all'importante appuntamento mondiale in programma i prossimi 9, 10 e 11 settembre. Ricordiamo che le tre gare in programma sono la Rampigada in Val di Vedro, la Battle Mat Sky Ultra in Val Formazza, la Veia International Sky Racing in Val Bognanco e le iscrizioni sono già aperte. Momento centrale di Uomini e mezzi del soccorso alpino sarà la simulazione di un recupero, inoltre sarà possibile visionare i mezzi della decima delegazione del soccorso alpino presenti in loco come la base logistica mobile. Ed ora siamo agli appuntamenti organizzati presso il Circolo Ferrari Saumegna. Doppio appuntamento con la cultura al Circolo Ferrari nel mese di maggio il 21 ed il 28 maggio, tra l'altro gli appuntamenti si spostano dal venerdì alla sabato, si comincia il 21 con che cosa? Sì, sempre nell'ambito dei venerdì letterari che come dici bene si spostano al sabato, il 21 avremo la presentazione del libro Storie, storielle e storiacce, che è il secondo libro di racconti brevi scritto da Donna Vittoria alias Rosanna Vittoria Carpo. Avremo un intrattenimento musicale molto piacevole, di grande livello. Le letture saranno a cura di Silvia Padolazzi e ci sarà una grande finalità benefica che deriva dall'utile derivante dalla vendita del libro e anche una parte della pericena destinata agli angeli dell'ospis. Il secondo appuntamento il 28 di maggio con l'Accademia Italiana del Peperoncino e del Rubettino ci sarà Gianni Pellegrino. Esatto, Gianni Pellegrino è un carissimo amico, un attore di teatro ma partecipa anche spesso con dei ruoli in molti film, sia drammatici che comici, perché lui è un attore comico, molto carino. Sabato 28 ci viene a trovare e lo ospiteremo al Circolo, l'evento è organizzato di Gente del Sud insieme al Circolo operaio Franco Ferraris. Nella pagina sportiva tutti i risultati del nostro calcio CSI. Una semifinale equilibratissima e palpitante fino all'ultimo secondo, con un palo clamoroso colto dalla portiera del Real Matisse Marco Danini che avrebbe portato il match ai supplementari, un'altra invece a senso unico di fatto senza storia. Il pala CSI di Villa Dossola ha ospitato l'une delle semifinali del campionato provinciale di calcio a 5. Nella prima delle due a fare feste è stato il Divin Porcello che ha sconfitto come detto il Real Matisse 3-2. Subito Ossolani avanti 2-0, poi i verbanesi hanno rimontato, sono andati ancora sotto e hanno quindi sfiorato il pareggio. Alla fine però ha esultato la squadra del presidentissimo Massimo Sartoretti che in finale incontrerà la pasticceriera Franca che ha superato 7-1 il Birra Real. Nella calcio a 7 si sono svolti nel passato fine settimana gli ottavi di finale. L'FC Gravellone ha superato 3-0 il Petenasco, mentre il parruzzarello Margherita ha avuto ragione all'inglese sul pallanzeno dopo una partita combattuta. Tutto facile per l'Esio che ha travolto 7-0 il Garbo e per l'Atletico Cogia che ha regolato 5-2 il San Martino. Battaglia vera tra Paolo Oms, Tres e Masera United con la vittoria dei primi di stretta misura 4-3. Disco verde per Ellas, Verbagna Azimut, 7-2 al Divin Porcello e per il Premia che ha piegato 4-3 la roba lucia. Un solo match si è concluso ai rigori a festeggiare 10-9 il Caffè Stangrini che ha sconfitto la Floricoltura a Saletti. Questi gli accoppiamenti per i quarti di finale in calendario sabato 21 maggio. Esio, Atletico Cogia, Parruzzarello, Caffè Stangrini, FC Gravellone, Paolo Oms, Tresa ed Ellas, Verbagna Azimut, VCO. Premia. È tutto, grazie per l'attenzione e buona continuazione di serata.